buonasera a tutti intanto voglio farti i complimenti per aver preso del tempo per avere questa straordinaria opportunità lascia che mi presenti sono mansuri saeed 38 anni da cremona di professione ho sempre fatto di giochi e grazie a un'opportunità presentandomi ben tre anni fa grazie a un amico che mi ha invitato come sei stato invitato a vedere questo video la mia vita è cambiata sto creando la mia rendita passiva e sto aiutando tantissime persone a creare una reale opportunità di guadagno una reale rendita passiva e soprattutto a star bene e a stare in salute oggi ti mostrerò in questi 20 minuti l'opportunità di club secret per l'italia per l'europa e per il mondo quindi voglio che veramente presti massima attenzione nei prossimi 20 minuti concentrati non distrarti perché alla fine ci sarà un grande regalo per te ma soprattutto voglio che i concetti più importanti vengono focalizzati dalla tua mente benvenuto in club secret the god life club secret intanto che cos'è una comunità di persone che aiuta e si aiuta ovviamente a migliorare diversi aspetti della propria vita ma chi è secret secret è un'azienda multinazionale più di vent'anni di esperienza grazie a isaac vashabat la persona che vedi in questa immagine con la sua famiglia si trasferisce negli stati uniti negli anni 2000 e decide di portare più benessere alle persone una persona veramente straordinaria con secret ovviamente con più di 3 milioni di fatturati in venditi in 60 paesi al mondo quindi l'azienda è solida è una grande azienda come ti ho già detto si sta spendendo in italia e in tutta europa e hai tu questa sera l'opportunità di vederla per la prima volta club secret ovviamente è un club di lifestyle che comprende tre settori importanti vivere il mondo sentirsi meglio e vedersi belli tutte le persone vorrebbero viaggiare in tutto il mondo tutte le persone vogliono stare bene in salute e soprattutto tutte le persone vogliono vogliono essere belli e vedersi belli andiamo a vedere il primo concetto vivere il mondo club secret intanto ha creato qualcosa di veramente straordinario che è una membership all'interno di questa membership solo per i membri quindi si accede tramite iscrizioni ci sono dei benefici importanti andiamo a vedere alcuni benefici il primo beneficio sono veramente dei sconti quotidiani che puoi avere nella tua zona nella tua città dove abiti ed è creato per farti risparmiare fino a 4 mila euro all'anno in più di un milione di negozi e accesso ovviamente anche a 80 mila eventi quindi immagini di andare a fare la spesa e di risparmiare di andare al cinema di andare ad acquistare il tuo profumo insomma in qualsiasi negozio nella tua zona anche in italia abbiamo questi sconti quotidiani qualcosa di veramente veramente straordinario ragazzi ma le sorprese non sono finite perché perché all'interno di questa piattaforma avrai anche concerti concerti vip accesso a biglietti ticket di calcio sport di tutto e di più ragazzi grazie sempre a club secret ovviamente abbiamo anche esperienze vip come questa straordinaria esperienza che abbiamo fatto ovviamente il tour in gondola a venezia il 3 di febbraio del 2023 di quest'anno io ero presente in questa straordinaria vacanza abbiamo affittato oltre 40 gondole e abbiamo fatto il tour insieme con tutti i membri del nostro club da tutto il mondo era un evento di travel e formazione c'erano tantissime persone da tutto il mondo e il divertimento garantito insomma ci siamo stra divertiti e soprattutto abbiamo creato delle grandissime grandissime relazioni ovviamente all'interno di club secret avrai un portale di prenotazione vip personale tuo ovviamente puoi viaggiare di più pagando di meno accesso illimitato gli sconti all'interno della piattaforma dei viaggi potrai affittare hotel crociere case vacanze macchine a nolleggio aerei settimane le vacanze il marketplace che è una qualcosa di veramente straordinario che il mercato aperto ovvero decidi tu la vacanza che cioè tratti tu il prezzo della tua vacanza e le attività e il lifestyle ovviamente lo stile di vita andiamo a vedere giusto una prova di prenotazione abbiamo fatto la prova di prenotazione a Bali indonesia 8 giorni 7 notti abbiamo risparmiato il 76 per cento quindi abbiamo risparmiato oltre 1042 dollari i risparmi sono reali e grandissimi e ti invito a contattarmi a contattare la persona che ti ha mandato questo video e a farti fare delle prove di prenotazione su misura qualcosa di veramente straordinario abbiamo viaggi prenotazioni a Dubai 67 per cento il 31 per cento a Las Vegas abbiamo il 37 per cento possiamo risparmiarlo in Grecia di tutto e di più insomma solo per i soci un grandissimo risparmio non siete obbligati ad essere tutti i soci basta che uno dalla vostra famiglia è socio che può portare tutta ovviamente la sua famiglia a viaggiare insieme a noi all'interno di club secret abbiamo anche i nostri escape cosa sono i secret escape i secret escape ragazzi sono vacanze esclusive 4 5 stelle prezzi riservati solo ai soci abbiamo lost privato trattamento VIP trasferimento aeroportuale la compagnia pensa tutte le prenotazioni ad attività in pratica sono vacanze costruite per te ma vacanze VIP vacanze da sogno ora ti voglio mostrare un viaggio che ovviamente ha fatto abbiamo fatto insieme al nostro team a Riti Grand Hotel Grecia Corfu è stata una delle prime vacanze di club secret costruita in Europa del 7 l'11 luglio del 2022 5 giorni 4 notti colazione e cena ogni giorno aperitivo di benvenuto ho dedicato cena di fine soggiorno trasferimenti dall'aeroporto ovvero ti vengono a prendere in aeroporto ti portano in hotel finita la vacanza ti riportano in hotel senza nessun problema al prezzo di 294 euro a persona in camera doppia ora questa vacanza io so che il prezzo è straordinario perché lo stai già pensando voglio mostrarti un video dei ragazzi del nostro team New Life Team che sono partiti e sono andati direttamente in questa vacanza sarà sicuramente emozionante quindi attenzione guarda il video e immaginati di essere nelle prossime vacanze insieme a noi buona visione A presto! 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 e come vedete ragazzi qualcosa di veramente veramente straordinario io sono sicuro che ovviamente vi ha emozionato tantissimo questo video ha emozionato anche a me immaginati che in futuro sarai insieme a noi in queste straordinarie vacanze ma non è finita qui, non è solo con Fugrecia Preda e Carmen, 4 giorni 5 noti, 579 euro a persona abbiamo Venezia, 190 euro abbiamo ovviamente una parte importante che mi piace definire la pace dei sensi ragazzi Be Will Benefit è un programma che è stato creato nel 2020 dalla nostra compagnia durante il Covid ovviamente tutela le persone in viaggio e anche a casa ovviamente quindi per chi non viaggia può avere questa assicurazione compresa nella nostra iscrizione al nostro club che può ovviamente assicurare tutta la famiglia ha il primo accesso, il primo soccorso, accesso rapido ricette elettroniche, sicurezza e tanto tanto altro ragazzi un valore veramente straordinario Club Secret vado giusto a includere tutti i benefici che potete avere con questa membership con questa membership ragazzi avete sconti quotidiani esperienze VIP, sconti col portale di prenotazione delle vacanze escape accurati quindi viaggi solo accurati per voi la telemedicina sconti brand partner, miglior prezzo sui prodotti programma fedeltà e tanto tanto altro ancora cosa dice il club? Il club dice ai nostri clienti di versare 55 dollari quindi 55 euro al mese come cliente VIP che non perderai ma verranno convertiti in crediti viaggio o crediti prodotto quindi l'iscrizione è gratuita e in realtà si fa solo a convertire ovviamente questa cifra mensilmente che ti viene poi ridata indietro in punti viaggio o punti prodotto che poi andremo a vedere a cosa servono più nel momento in cui tu fai l'acquisto minimo di 150 euro hai anche 45 euro mensilmente di credito prodotto per tutti i prodotti Club Secret all'interno della nostra piattaforma perché come ti ho detto non è solo viaggi ma andiamo ovviamente a vedere tre grandi settori importanti. Adesso andiamo a vedere il secondo prodotto che la nostra azienda ha è sentirsi meglio sentirsi meglio perché ragazzi perché ovviamente le persone vogliono star bene vogliono stare in salute sempre più persone hanno problemi di salute quindi noi grazie al dottor Auercon alla sua visione nel 2018 sono stati creati questi prodotti veramente straordinari in partnership con Secret il dottor Auercon ragazzi non ha un improvvisato una persona straordinaria con 30 anni di esperienza nella medicina alternativa fondatore del Con Institute ha curato più di 50.000 pazienti e ha formato più di 50 dottori ovviamente è colui che formula e sviluppa tutti i prodotti riconosciuto a primetto a livello internazionale e nazionale ovviamente i prodotti sono a base organico vegano senza zuccheri senza gruppi nella stessa storia certificato kosher a base di piante e no OGM è qualcosa di veramente straordinario ragazzi perché credetemi lui ha sempre curato le persone con naturale e andiamo ovviamente a migliorare le quattro maggiori sfide della salute giornaliera di tutte le persone intanto uno è l'energia il lavoro ci stressa ci stanca ecco grazie al nostro green puoi avere più energia più salute e ovviamente più integrazione hai disturbi del sonno conosci qualcuno che ovviamente ha disturbi del sonno bene col booster puoi riposare e dormire sogni tranquilli grazie a Life by Secret hai dei dolori dolori particolari ovviamente alcune tipologie di malattie eccetera viene a scoprire ovviamente la terza sfida che è quella del dolore gestita dall'idrofix e da recovery l'idrogeno molecolare è molto importante ragazzi informatevi su questi due prodotti perché sono due prodotti veramente straordinari che vanno a curare oltre 170 malattie presenti nel mondo problemi di sovrappreso con il curve e con un'attività ovviamente fisica dettagliata dai nostri personal trainer all'interno di club fit potete migliorare anche il vostro aspetto fisico quindi andiamo proprio ad aiutare le persone che hanno questi problemi e non solo ragazzi il miglior attacco è una buona difesa in Munix ragazzi creato durante il covid-19 è stato qualcosa di veramente straordinario va ad aumentare le difese umidità del tuo corpo ragazzi questo prodotto è un prodotto che dovete avere tutti in casa soprattutto in questo momento vedersi meglio vedersi meglio perché ragazzi perché vi devo parlare del mar morto perché il mar morto ragazzi intanto perché intanto è a 400 metri sotto il livello del mare il mar morto è il punto più basso della terra visitato da oltre un milione e mezzo di persone ogni anno e contiene 21 minerali di cui 12 esclusivi del mar morto secret combina il potere del mar morto con la più innovativa tecnologia di skin care ed è per quello che abbiamo creato questi prodotti straordinari ragazzi ma non lo dico solo io lo dicono tantissimi tantissimi persone personaggi famosi in tutto il mondo ma anche Cleopatra che già migliaia e migliaia di anni fa andava direttamente questa dea bellissima andava dall'antico Egitto andava direttamente in Palestina per curarsi con i fanghi dal mar morto cosa abbiamo fatto noi ragazzi è molto semplice abbiamo preso la natura insieme alla scienza ha creato questi prodotti straordinari grazie alla collaborazione con l'Oreal che ha creato questi prodotti e li ha portati direttamente a casa tua quindi portiamo il mar morto direttamente a casa tua abbiamo la linea fondamentale abbiamo l'anti-age il bio shield per le pelli sensibili prodotti per capelli prodotti per l'uomo di tutto e di più ragazzi ma sono le testimonianze il nostro repertorio più importante guardate dopo una settimana questo ragazzo grazie alla nostra saponetta e l'Ocean Mist il body butter aveva delle ovviamente le irritazioni al collo e le guance devute al freddo magari a qualche allergia in una settimana guardate cosa è successo è guarito completamente e non solo tantissime altre testimonianze abbiamo prodotti contro l'acne guardate il prima e il dopo abbiamo ovviamente il peeling gel un prodotto straordinario che va a rimuovere come vedete nel video la pelle morta in eccesso nel viso abbiamo anche lo scrub per quanto riguarda il corpo e tantissimi tantissimi altri prodotti ragazzi questi prodotti sono straordinari si vendono da soli non c'è nemmeno bisogno di andare in giro a venderli ragazzi è veramente qualcosa di straordinario abbiamo anche la maschera M4 diciamo una delle punte diamante dalla nostra azienda che va rimossa guardate con il magnete il fango dal mar morto che va rimosso con il magnete quindi velocissimo in 5 minuti ti fai la maschera uomo o donna che sia e poi puoi tornare in ufficio puoi tornare al lavoro credetemi ragazzi quando utilizzate questi prodotti rimanete a bocca aperta qualcosa di veramente veramente straordinario andiamo avanti alcune testimonianze grazie all'utilizzo della nostra la maschera M4 abbiamo anche il recover mask ovviamente la recover la maschera dorata la chiamo io guardate il prima e il dopo ragazzi di questo di questo signore qua prima di iniziare il percorso con il recover mask e il dopo direi veramente qualcosa di di fantastico questi prodotti abbiamo anche l'anti age riduce l'aspetto di occhiaie scure e gonfiore aumenta l'alestericità e la fermezza della pelle non trattato e l'altra parte è trattata ragazzi poi vi invito al nostro canale telegram dove vedrete tantissime tantissime ovviamente testimonianze di questo tipo ma vi voglio far vedere grazie al nostro negozio online club secret il cliente VIP come può funzionare un prezzo o una caduta di prezzo il recovery al pubblico costa 68 euro viene venduto al mercato se nel primo acquisto superi i 50 euro di acquisto quindi diventi cliente VIP risparmi già il 20% di sconto quindi lo pagherai solo 55 euro ma se oltre allo shop vuoi anche aderire quindi ti iscriverai anche ovviamente alla parte viaggi quindi sei iscritto anche in club secret hai il 10% di sconto in più quindi lo andrai a pagare 49 euro invece di 68 direi un grandissimo risparmio in club secret potete anche usufruire di tre pacchetti molto importanti il pacchetto pro con oltre 40 prodotti e tantissimi tantissimi altri regali all'interno il pacchetto power skin care e nutrition e il preview che può essere solo nutrizionale o skin care vi ricordo che chi accede e compra uno di questi tre pacchetti ha ovviamente un mese di club secret gratuito quindi la mensilità dai viaggi il famoso deposito dei 55 euro non lo depositi più tu te lo dai primo mese club secret direttamente all'azienda ma poi verserai al mese solo 43 euro perché solo 43 euro perché sarai un pioniere nel settore dei viaggi quindi versi 43 euro ma loro ti danno indietro 50 punti per viaggiare o per comprare i prodotti ovviamente voglio parlare di questa parte importante gateway solo per i membri questo programma straordinario il programma gateway esclusivi gateway per tutte le persone che fanno una cosa importante che mostrerò a breve intanto cosa sono i gateway sono vacanze 5 stelle 4-5 stelle aperti solo ai soci esempio crociere resort come vedete in questa slide oppure case vacanze crociere gateway fino a 6 giorni 5 noti per 2 persone date flessibili quindi decidete voi quando partire più di 200 crociere un anno per prenotare avete tempo un anno nel momento in cui attivate il voucher ovviamente pagherete solo tasse di portuali hotel e boutique in Europa 6 giorni 5 noti anche qui per 2 persone tutto compreso pagherete ovviamente solo se ci sono alcune tasse 8 giorni 7 noti all'hotel gateway tantissime destinazioni ragazzi non voglio soffermarmi qua per non perdere tempo Emilia Orlando insomma le vacanze sono tantissime Florida andiamo avanti altre vacanze Los Cabos Mexico Cancun Messico Gran Cayman Isola of Chile la Svezia Roma Italia abbiamo anche la nostra Italia per 8 adulti piscina spa ragazzi potete portare con voi anche fino a 8 persone come funziona sono sicuro che vorresti fare una di queste vacanze e io ti mostrerò come poterla fare intanto nel pacchetto pro che comprende tutti i prodotti di Club Secret comprende un mese di Club Secret dei viaggi compreso più 3 voucher di viaggio ragazzi è qualcosa di straordinario solo al prezzo valore di 2089 euro versando 2089 euro hai tutti i prodotti oltre 40 più 3 viaggi e puoi prontare partire quando vuoi il valore di questo pacchetto ragazzi va oltre 8000 euro il pacchetto preview con tutti i prodotti e la parte di Club Secret di un mese hai compreso un viaggio 752 euro il valore di tutto questo supera i 2900 euro il preview nutritional screen care un viaggio il valore è 449 euro ovviamente sul mercato se vendiamo un prodotto alla volta diciamo ovviamente è 2400 dollari 400 euro tutti i pacchetti includono un mese di Club Secret e a soli 43 euro cosa voglio spiegarti con questo che col pacchetto pro c'hai 3 viaggi compresi in questi prodotti col power un viaggio col preview un viaggio sono sicuro che sei orientato sul pacchetto pro perché 3 vacanze ragazzi per 2 barra 8 persone col pacchetto completo solo a 2000 euro è una follia ragazzi per chi vuole investire nella nostra società è qualcosa di veramente veramente straordinario credetemi io ne so qualcosa perché ho fatto oltre 15 vacanze con questo club negli ultimi 3 anni Club Secret ha creato anche qualcosa di veramente straordinario il programma fedeltà 50 e 50 chiamato come 50 50 fai qualcosa e io ti do indietro qualcosa Club Secret vuole mantenerci il più possibile insieme a loro quindi ti sta facendo un grandissimo regalo intanto ti dice se rimarrai socio dalla parte viaggi Club Secret e verserei 43 euro al mese e acquisterai almeno 50 euro al mese di prodotti e mantieni questa fedeltà per i prossimi 12 mesi consecutivi sapete cosa fa siete pronti qualcosa di veramente straordinario veramente incredibile hai un viaggio gratis dove trovate un concetto un business un'opportunità di questo genere ragazzi in giro non se ne trovano 50 e 50 e a fine anno ti regalo un viaggio che puoi andare e partire con la tua famiglia qualcosa di veramente fantastico non è finita ragazzi perché qui andremo a parlare ovviamente di come possiamo guadagnare qualcosa di importante un guadagno extra un'opportunità business chiamatela come volete voi la prima parte vi ho spiegato un po' diciamo l'opportunità diciamo i prodotti abbiamo parlato un po' più ed almeno dei prodotti di come funziona che cosa c'è cosa comprende ma credetemi fissate un appuntamento con me con la persona che ti hanno dato questo video ragazzi perché andremo poi a vedere ovviamente in diciamo andiamo proprio a vedere il sito a fare la prenotazione eccetera eccetera guadagno extra perché ragazzi perché secret ti dà l'opportunità di diventare partner nella nostra società sempre più persone vogliono lavorare online sempre più persone più persone sono stufe dal proprio lavoro e sempre più persone stanno cercando un piano B per la propria vita ragazzi il piano B lo troverete insieme a secret perché perché secret ti aiuterà a sviluppare un'attività senza rischi a zero investimenti ragazzi con solo 43 euro all'anno tu diventi un agente e intanto hai oltre 40% di sconti su tutti i prodotti ovviamente poi che cosa hai andiamo a vedere il guadagno su ogni prodotto che puoi vendere a un cliente hai dal 20 al 30% alcuni esempi vendi 10 club secret quindi 10 persone si iscrivono nella parte viaggi per viaggiare risparmiare tu hai 130 dollari ovvero oppure 10 persone che acquistano almeno 100 dollari come clienti VIP tu hai 200 dollari di bonus in club secret ragazzi abbiamo 9 modalità di guadagno qui te ne mostro alcuni la parte business la vedremo poi in un secondo momento in privato perché ci vuole un'oretta giusto per spiegare solo la parte business ok commissione di team cos'è io lo chiamo il ciclo nel momento in cui tu inizi a lavorare insieme a noi ci sei tu ci sono i tuoi collaboratori i collaboratori è un lavoro di gruppo nel momento in cui ci sono due grandi squadre nella squadra di destra c'è un fatturato di 600 dollari nella squadra di sinistra 300 si chiude un ciclo e puoi guadagnare da 45 a 50 dollari dipende dal tuo livello di qualifica fino a raggiungere 25 mila dollari settimana questo è il tetto massimo di questa commissione di team chiamata il bonus del ciclo ok 25 mila dollari per 4 settimane sono 100 mila dollari qualcosa di veramente straordinario direi e ovviamente abbiamo anche puoi anche venire riconosciuto e premiato a livello nazionale internazionale e in più abbiamo la nostra ovviamente carriera che parte da bronze royal silver gold platinum ruby diamond blue diamond diamante rosso crown e crown royal una crescita e una scalata la definisco la scalata al miliardo ok si parte con poco con 300 dollari di medio mensile fino a 200 oltre 200 mila dollari al mese ragazzi mi voglio soffermare sulla qualifica platinum perché perché per i visionari in italia platinum è una qualifica importante nel momento in cui tu sei platinum puoi diventare formatore internazionale della nostra azienda in italia o all'estero al raggiungimento del diamond hai tutti i viaggi ovviamente di lavoro di secret o anche di svago gratuiti e tantissime tantissime altre cose raggiungi crown royale e hai un milione di dollari cash in più per magari costruire la casa dei tuoi sogni ragazzi credetemi io sono tre anni e mezzo che sono in questo concetto qua l'azienda funziona funziona alla grande avete un'opportunità straordinaria tra le mani dopo questo video vi invito a chiamare me a chiamare la persona che avete che vi ha mostrato questo video e a chiedere maggiori informazioni ma qui ti voglio parlare di alcune storie perché sono le storie vere che mi hanno fatto credere in questo concetto che mi ha fatto innamorare in questo prodotto questa ragazza qua Stalo Platinum Magent in cinque mesi è arrivata alla qualifica di Platinum una persona veramente straordinaria che ho conosciuto di persona Octavian Pianalopai diamante 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 un diamond nella nostra azienda io lo conosco personalmente sono seguito personalmente da questa persona straordinaria che mi ha insegnato e mi sta insegnando giorno per giorno per raggiungere la mia libertà finanziaria e Frosini e Melanie due donne straordinarie Blue Diamond con oltre 20.000 dollari di passivo al mese sono le prime due donne che hanno iniziato in Europa nel concetto di Secret sei anni fa ragazzi qualcosa di veramente straordinario e ovviamente Crown Royal Jessie McPherson la storia di Jessie era un ballerino di hip hop ha insegnato anche Firenze in Italia continuava a girare il mondo ballando ballando io mi sono anche ispirato a lui visto che sono un DJ e grazie a sua mamma che gli ha presentato Secret ha usato i prodotti ha visto i benefici ha visto la carriera e ha iniziato a lavorare con Secret ragazzi e in 12 anni ha raggiunto la qualifica di Crown Royal con un guadagno medio mensile di oltre 260.000 euro al mese ragazzi seguitelo sui social andate a vedere chi è e vedrete veramente il suo stile di vita e quello che potete raggiungere insieme a noi e insieme al lavoro di tutta la nostra squadra abbiamo ovviamente un evento quindi abbiamo formazione online e offline in Ungheria a Budapest saremo presenti ti aspetto spero che sarei con me per formarti con i trainer migliori al mondo di Secret e imparare la loro visione ovviamente all'interno dopo questo video ci sono tre tipologie di persone la persona di tipo A di tipo B e di tipo C la persona di tipo C ad esempio è quella persona a cui magari non è interessato questo progetto ha visto ha speso 30 minuti del suo tempo per vedere una cosa nuova quindi io ti dico grazie mille del tuo tempo non c'è problema scrivimi pure che non ti interessa non succede niente non è per tutti noi comunque andremo avanti a parlare con le persone la persona di tipo B magari è quella persona che vuole i prodotti quindi vuole essere il nostro cliente non è magari interessato al business vuole solo i prodotti magari vuole viaggiare vuole avere dei risconti in alcune vacanze e magari vuole stare bene a livello estetico così come salutare ti do il benvenuto scrivimi in privato ti mando il link per fare gli acquisti direttamente sul mio shop online la persona di tipo A invece è quella persona che a cui è piaciuto il business ed a cui magari è piaciuta anche l'opportunità dei prodotti e di business insieme come è successo a me ovviamente quindi è quella persona che magari ha visto la visione in questo video ha capito che può costruire qualcosa di importante ha capito che in Italia siamo i primi in questo concetto e che può creare la sua fortuna insieme a noi ti do il benvenuto perché il percorso di Secret è qualcosa di veramente straordinario ovviamente a tutti voi vi invito a fare una cosa molto importante sono tre semplici step diventa un agente scegli il tuo pacco includi Club Secret nella parte di viaggi e scegli la tua prossima vacanza ciao a tutti Grazie a tutti. I've seen the proof, I know the truth, this is the word I was made to do, I was born, for this, I was born, for this, never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle, get ready for a battle, cause you know that I was born, for this. I was born, for this, never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle, I was born, for this, never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. No one else could ever hold a candle. I've seen the person who's really extraordinary, Warren Buffett, one of the millionaires number one in the world, who says, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until the death. Ora tocca a te, la decisione rimane a te, noi comunque continueremo a parlare con le persone. Ti ringrazio da Manusuri Said, New Life Team, e ci vediamo nelle più belle spiagge del mondo. Ciao, grazie.